Come sta andando la stagione turistica? Lo chiediamo al proprietario del bagno Mario, allora come va questa stagione? Ma diciamo si è un po' alternata perché in base un po' al tempo che c'è stato anche non è stato granché come tempo bello però come afflusso di persone diciamo adesso non c'è male per quanto riguarda agosto i mesi maggio e giugno così così, luglio poi si è alternato come affluenza di persone diciamo però adesso agosto diciamo più c'è un'affluenza maggiore come... Sono italiani oppure ci sono anche stranieri? Agosto più italiani diciamo, gente locale, molta gente locale diciamo, qualche straniero c'è ma di meno diciamo i stranieri più maggio, giugno, settembre, ottobre questi mesi così diciamo come... Per quanto riguarda le problematiche del Lido vuoi segnalare qualcosa? Sì per quanto riguarda le problematiche c'è un grosso problema che è l'erosione delle spiagge in totale che è avvenuto negli arco di questi anni perché praticamente hanno tolto delle scogliere se puoi inquadrare pure... adesso hanno messo uno scoglio qua stanno cercando di ripristinare un po' i luoghi come erano una volta diciamo praticamente io ho metà della spiaggia di cui avevo prima come ben vedete i lettini che sono messi qua e non solo io ma partendo diciamo da Corrado fino a Bagno Ippocampo, Capifirre, questo qua qua questo problema qua e ora il sindaco ha fatto anche lo stato di calamità però lavori che hanno detto che dovevano svolgere non sono stati svolti totalmente diciamo come... adesso c'è questo ragazzo Luca Spignese Aldemanio ha detto che stanno premendo molto alla regione per risolvere questo problema diciamo speriamo che si risolva perché comunque noi viviamo di turismo a tutta l'isola se non c'è la spiaggia la gente comunque non può... non affluisce come dovrebbe diciamo questo problema qua poi per quanto riguarda la stagione come le ho detto si è un po' alternato un po' meno degli altri anni comunque come afflusso sui fine settimana si lavora un po' di più così ma non come anni indietro diciamo è diminuito un po' diciamo un po' di crisi c'è in generale